stiamo parlando dei nostri talenti di quando eravamo piccoli poi magari persi nel tempo così come il piccolo dj di due anni che possiamo vederlo dal sito repubblica.it chissà se diventerai futuro ghetta oppure magari da grande farà il banchiere magari si diverteresse da bambino perché non ci pensa poi se lo costringono che deve entrare a un lavoro quella è proprio una roba importante per i bambini cioè non bisogna costringerli come Natalia a fare una sola cosa il pianoforte secondo me i bambini dovrebbero provare un po' di tutto esatto perché magari il talento il vero talento quello proprio naturale quello che ti viene spontaneo esatto è una roba che neanche te l'aspetti e che ti fa divertire non perché sei costretto no dai fai questo c'è il corso di questo vai a fare quest'altro impara questo che ti serve in futuro mi chiedo chissà Costanzo da piccolo che talento aveva ci colleghiamo con il nostro il nostro grande collaboratore l'abbiamo rubata ad un'altra radio signore e signori Maurizio Costanzo buongiorno dottor Costanzo buongiorno buongiorno a tutti ascoltatori di Edithabat no che c'entra Edithabat no M2O se non so va bene che l'Edithabat collaboravano con noi però siamo su M2O ma è vero se è M2O no M2O 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 io vi sono zero quando leggo ma allora per lei M2O va bene allora dottor Costanzo lei aveva un talento da piccolo cioè qual era il suo talento quello che dicevano ah è da grande sarai un un ma credo che sarò uno tutto tranne uno scaldacollo ah 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 ho pensato subito a questo ma che cos'è un scaldacollo sto facendo scusate se sentite il rumore sì sto facendo una lampada ma come una lampada perché vuole diventare come Carlo Conti no perché sì per condurre Sanremo quello è il così il nuovo obiettivo di tutti sì e io prima di chiudere questa grandissima carriera la voglio fare col botto quindi sto facendo una lampada se sentite il rumore un po' di vento la vento ma abbronzarsi forse non è un po' troppo abbronzarsi non è peccato un po' troppo in là è peccato non farlo forse non è un po' troppo in là con gli anni per condurre Sanremo dottor Costanzo senza offenderla eh ma insomma fino a qualche anno fa è stato condotto da Ripobaudo è condotto da menzioni che sono coetanei e hanno meno verde ed è stato scritto giusto giusto ah veniamo a noi cerchiamo di capire quali sono i temi che veramente preoccupano il nostro paese ad esempio parliamo di una cosa che secondo me l'è molto vicino Mediaset punta le torri della Rai cioè con 8 Towers lancia un'opo su RaiWay cioè vorrebbe acquistare le antenne del canale statale che ne pensa? ma quello è un movimento che mi rende partici perché io vengo dalla Rai e credo che è così oggi è 25 sembraio sta scavando il tempo tra tre giorni per pagare il canale Rai e poi rifarlo attraverso il numero verde che è ma perché insiste? scusi lei adesso inizia pure nel suo programma il Costanzo Show ad aprile in Mediaset e continua a parlare della Rai abbronzarsi non è peccato peccato non farlo ci sarà un traduttore senta ha sentito che esce la nuova banconota da 20 euro? non ho capito è uscita la nuova banconota da 20 euro e sticato ma scusi no nel senso credo che sia una merchandising importante come merchandising? c'è già tanta confusione tra le monete di rame e tra cose inutili che credo che ci manca anche questi 20 euro per poter mettere in difficoltà le persone che sono un po' su con l'età e hanno diversi problemi io non ho problemi perché mi sto facendo una lampada mi ha capito risolve tutto con la lampada però mi sto spionando mancano 4 minuti ma non so se ce la faccio senta dottor Costanzo ma lei ha visto la notte degli Oscar cosa ne pensa del film che ha vinto Birdman? ma credo che Oscar sia stato un grande presidente ho vinto ho vinto da Ciampi all'epoca Carlo Azzelio Ciampi che è stato un presidente che ha fatto non solo niente più o meno discutere mi salutava anche lui ma sei sicuro che abbiamo fatto bene a prendere l'etile? se non ci credi chiamatemi Oscar no non è quello lei ha fatto un minestrone va bene lo stesso grazie mille dottor Costanzo ci risentiamo settimana prossima meno male che c'è lei per farci capire secondo voi devo metterli in toposone? forse si si sempre abbronzarci non è peccato è peccato non farlo ciao dottor Costanzo buona giornata benvenuti si pari a 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